ciao benvenuti allo speciale di mio podcast in questa edizione a tiratura limitata lo speciale di mio podcast intervisterà eminenti scienziati e professori universitari e anche del cnr italiani sul tema dei danni da cambiamento climatico in italia ciao e buon ascolto bene allora buongiorno a tutti grazie agli organizzatori per avermi invitato e grazie anche per aver organizzato una iniziativa molto interessante come questa trovate delle diapositive in inglese soltanto perché per pigrizi avendo già predisposto una presentazione ho usato quelle che avevo sotto mano ecco la relazione ovviamente la faccio in italiano allora l'argomento è un po visto così è un po ostico di solito quando si parla dei problemi di sostenibilità si mette l'accento sulla certamento la finitezza del mondo in cui viviamo e sulla limitazione limitatezza delle risorse per cui il tema più immediato diventa quello del progressivo esaurimento delle risorse naturali con annessi e connessi io cercherò di mettere in evidenza qui qualche cosa che si aggiunge alle difficoltà o ai vincoli del sistema mondo e che di cui si parla di meno non che non sia considerato perché fin dal tempo dell'iniziale della pubblicazione dei limiti della crescita da noi tradotto i limiti dello sviluppo l'approccio era in realtà quello di sistema e con tutti gli annessi e connessi allora noi abbiamo a che fare con dei sistemi cioè insieme di elementi tra loro interconnessi e partiamo col constatare che il pianeta su cui viviamo è un sistema materiale interconnesso che è governato da leggi che sono non discusse dai parlamenti non sensibili ai punti di vista degli economisti del tutto indifferenti ai commentatori dei giornali e le quali sono leggi di conservazione energia e materia non si creano e non si distruggono e di trasformazione al massimo si trasformano quando si tratta di trasformazioni c'è un'antipaticissima legge fisica che si chiama secondo principio della termodinamica che ci dice che se anche siamo bravissimi anche abbiamo delle tecnologie le migliori possibili teoricamente siamo costretti quando usiamo dell'energia per ricavare un lavoro a buttarne via un po' che ci piaccia o no buttarne via vuol dire produrre effetti collaterali non voluti tecnicamente se ci produciamo entropia se volete produciamo disordine il disordine si manifesta o come calore disperso come effetti collaterali di varia natura va ricordato che il sistema in cui viviamo è un sistema che chiuso ma non isolato chiuso vuol dire che lo scambio di materia con l'esterno parlo dell'intero pianeta è trascurabile mentre il mancato isolamento è legato al fatto che noi abbiamo un flusso di energia in entrata ad alta temperatura e quella solare è un flusso di energia in uscita a bassa temperatura la radiazione infrarossa emessa dal pianeta il questo flusso è quello che mantiene in funzione le trasformazioni del mondo che ci circonda e in definitiva il pianeta funziona più o meno come una macchina termica può mantenere il proprio ordine interno perché può scaricare il disordine all'esterno attraverso la radiazione infrarossa solo che questa storia può avvenire in condizioni di equilibrio dinamico oppure no questo è il sistema materiale all'interno del sistema materiale noi abbiamo la biosfera la biosfera all'insieme degli esseri viventi dalla scala minima alla scala massima la biosfera è regolata da sue regole particolari che ovviamente non superano né modificano quelle del contesto e che portano in definitiva ad una evoluzione adattativa la biosfera non è mai identica a se stessa è cambiata moltissimo per quanto riguarda i componenti viventi e quant'altro evolvendo in interazione col sistema fisico man mano che si modificano le condizioni fisiche la biosfera evolve adattandosi e questo è l'altra caratteristica e mantenendosi in sostanziale equilibrio dinamico sono in genere processi ciclici che si adattano appunto alle condizioni circostanti finalmente dentro la biosfera ci siamo noi e qui cominciano i guai le regole esterne sono quelle di prima e non c'è niente da fare quelle sono noi però abbiamo all'interno un altro sistema di regole fra di noi che sono caratterizzate dalla competizione per l'accesso alle risorse circostanti e dalla sostanzialmente dalla disuguaglianza tra di noi anche se apparentemente siamo tutti uguali insomma come connotazioni caratteristiche queste regole hanno una caratteristica però importante mentre le prime non sono discutibili anche se ci piacerebbe tanto queste altre invece sono discutibili solo che l'approccio tradizionale dell'economia capovolge le parti e ritiene che le queste regole quelle interne siano indiscutibili e quelle esterne quelle fisiche invece sì ecco ma questo è un capovolgimento che ahimè nasce del tutto indifferente il mondo circostante quello con cui abbiamo a che fare sistema socio economico è un sistema qui ho fatto una brutale schematizzazione in cui potete immaginare dei poli chiamiamoli unità produttive i pallini rossi sono luoghi in cui si convertono risorse primarie con inclusa l'energia in cose che noi chiamiamo prodotti o servizi che a noi interessano quindi ci sono di mezzo dei processi fisici preleviamo risorse dall'ambiente e poi c'è un utilizzo di queste di queste cose che noi produciamo unità produttive può voler dire una fabbrica può voler dire un ufficio in cui produco idee oppure una che ne so un luogo in cui do lezioni di violino è un servizio che interessa comunque sono caratteristiche in cui produco quello che noi chiamiamo diciamo così la ricchezza qualunque cosa sia poi ci sono delle aree in cui questi prodotti vengono distribuiti a ciascuno di noi come utenti finali e le chiamiamo mercati se vogliamo tanto per dargli una connotazione tutto questo è connesso da una rete ci sono dei vincoli dei legami le linee gialle lungo le quali fluiscono prodotti risorse quant'altro per far funzionare tutto l'insieme questo è tipicamente un sistema un sistema a rete ora ciascuno di quei pezzi però ha a che fare con le regole fisiche esterne qualcosa che regola il singolo nodo produttivo schematizzando in maniera drastica può essere indicato qui l'andamento la disponibilità di risorse primarie di una certa particolare risorsa primaria e quindi la capacità di produrre a partire da quella risorsa tipicamente quelle cosiddette non rinnovabili ha un andamento che è quello della curva di Hubbard quella formuletta laggiù in cui in realtà ci vorrebbero due parametri liberi per regolare l'altezza e la larghezza ma adesso non stiamo a guardare questo è diciamo il vincolo relativo al singolo nodo che fa quella singola cosa usando quella risorsa punto e basta sono tutte semplificazioni drastiche nella realtà le cose sono più complesse perché ci sono delle evoluzioni o quant'altro però a me interessa mettere in evidenza la logica del sistema più che il sistema descritto così com'è in tutte le sue complessità se passo ai nodi ai vincoli qui c'è anche una limite che è di nuovo esprimibile formalmente con una curva che è una curva logistica se io ho un condotto questo condotto porta qualcosa che possono essere automobili acqua bit non importa porto qualcosa bene la capacità del condotto di portare qualcosa ha dei limiti fisici dipende dalla sua natura se è una strada alla sezione stradale se è un canale ovviamente alla sezione del canale e via discorrendo se è una fibra ottica anche quella dei limiti e questi limiti sono tali per cui man mano che il flusso aumenta io mi avvicino ai limiti la velocità di aumento del flusso diminuisce una strada che si congestiona aumenta i veicoli aumenta i veicoli ma riempiendosi a un certo punto più di tanto non può fare no perché ho riempito gli spazi e raggiunto la velocità ottimale insomma il sistema tende a saturare c'è un tetto fisico anche qui per il piacere di chi gradisce c'è l'equazione che rappresenta la logistica il mondo reale molto più irregolare ci sono interazioni multiple che io non sto considerando per cui se uno guarda una curva misurata non trova una bella cosa così liscia trova una cosa che va su e giù si inghiozza ne fa di tutti i colori ma la logica sottostante è quella fuori da quella logica non si va che altro possiamo dire noi in più abbiamo un sistema che cresce il meccanismo i presupposti di cui parlerò dopo spingono questo sistema non ad assestarsi evolutivamente come nella sistemi biologici ma a crescere e allora che succede che in sostanza man mano che i nodi si trovano in difficoltà perché qualche risorsa diventa più scarsa quindi aumenta il costo in termini economici o quant'altro il sistema è spinto a diversificarsi moltiplico le produzioni differenzio le produzioni faccio qualcos'altro nessuna produzione scompare totalmente si ridimensiona ma c'è sempre però in compenso si moltiplicano altre cose e diciamo così buffo quando parliamo del lavoro che ce n'è di meno e così via poi uno presenta come nuovi lavori fare i fattorini a domicilio portare le pizze calde o cose del genere oppure fare la la coda al posto di un altro c'è le cose più però a rigore questo è una spinta dovuta alla crescita verso la diversificazione dei nodi ma man mano che aumenta il numero dei nodi ovviamente aumenta anche il numero di possibili connessioni tra i nodi e ciò che è possibile in un sistema spinto alla crescita diventa reale prima o poi cioè ciò che è un canale possibile viene anche trasformato in un canale reale lungo cui viaggia qualcosa qualcosa può essere informazione possono essere tonnellate è comunque qualcosa e qualunque cosa viaggia sempre una base fisica non metafisica quindi sempre soggetto a certi vincoli e così via ora la saturazione poi dei singoli canali induce una spinta anche a parità di nodi a moltiplicare il numero dei canali c'è una strada la strada tende a saturarsi facciamo anche una ferrovia no in passato facciamo anche la ferrovia però per vari motivi no non va facciamo l'autostrada sempre tra i due estremi se i due estremi sono lontani mettiamoci anche un collegamento aereo mettiamoci una una fibra ottica usiamo la banda larga che altro sia quindi oltre a tutto quello che ho detto prima c'è una spinta continua ad aumentare il numero di vincoli di connessioni a parità di nodi ma aumentando i nodi il numero di di connessioni possibili aumenta e come aumenta il numero di connessioni possibili partiamo da un nodo bene un nodo non si connette a nulla da solo adesso mettiamone due di nodi ovviamente il legame minimo tra di loro è uno posso anche farne di più in parallelo ma diciamo come minimo ce n'è uno se i nodi sono tre il numero minimo di vincoli di legami è tre se i nodi sono quattro il numero di contate li diventa sei se i nodi sono cinque il numero di possibili connessioni diventa dieci per farla breve i nodi sono la retta aumentano e nel sistema economico nostro tutti vorrebbero che fosse un esponenziale in realtà e il numero di connessioni e la curva che vedete impennarsi su è più ripida l'equazione cina è quella lì in sostanza il numero minimo di connessioni tra i nodi cresce col quadrato del numero dei nodi quindi più in fretta allora se noi consideriamo complessità la definiamo come il numero di legami di connessioni possibili non c'è una definizione unica e netta di quello che vuol dire complessità questa è una versione semplice ma tutto sommato sensata voi vedete che la complessità del sistema cresce più in fretta del sistema adesso qual è il problema facciamo un'altra considerazione questa storia del quadrato non si trova solo lì parliamo delle connessioni canali strade fili quello che volete voi è abbastanza comune constatare che le risorse necessarie per mantenere in circolo qualcosa tendono a crescere più rapidamente di quanto non cresce la quantità che io voglio mantenere in movimento esempio più banale del mondo un viaggio il parametro interessante tempo di viaggio voglio ridurlo ora il tempo di viaggio è proporzionale all'inverso della velocità del mezzo che trasporta quello che deve trasportare l'energia cinetica del veicolo che però utilizzo cresce col quadrato della velocità questo vuol dire che la quantità di energia che ci devo mettere per ottenere un aumento della velocità oltre un certo limite cresce più in fretta della velocità stessa raddoppio la velocità ci vuole devo metterci dentro energia che quattro volte tanto un altro risvolto è lo riprenderò che io posso avere un inconveniente un incidente o qualche cosa l'energia da dissipare nel momento in cui avviene uno scontro cresce col quadrato della velocità l'eventuale danno cresce col quadrato della velocità lo sforzo da fare per contenere il danno cresce col quadrato della velocità quindi più velocemente l'altro esempio banale quello della corrente elettrica no la legge di giù se ho una corrente la corrente quello che mi interessa però un effetto collaterale il filo si scalda a meno che si tratti di una stufa diciamo questo è un effetto che non vorrei perché mi porta via dell'energia ma non posso farne a meno e l'effetto collaterale legge di giù è quadratico cresce col quadrato della corrente mettiamo insieme queste cose che riguardano tutti i flussi col fatto che il numero dei possibili canali cresce a sua volta quadraticamente e voi vedete che c'è una quantità di effetti che non sono quelli che io avevo provisto progettato nella crescita del sistema che crescono più in fretta del sistema che sta crescendo per l'appunto questo è uno dei degli aspetti che abbiamo queste cose che sto dicendo si possono vedere dal punto di vista del controllo che è particolarmente visibile pensendo oggi alle reti tipo internet telefonini interconnessioni social networks post elettronica e quant'altro un sistema a complessità crescente tende a perdere controllo a mettere in difficoltà la possibilità di controllarlo in una rete come quella ogni nodo deve controllare gestire governare i flussi che fanno capo a quel nodo in entrata ed un'uscita governare controllare vuol dire banalmente che ci deve essere un qualcosa un hub un calcolatore uno su un operatore umano che dedica del tempo a controllare sequenzialmente tutti i flussi che entrano che escono se voi considerate le 24 ore è chiaro che la se aumenta il numero di connessioni aumenta il tempo che è assorbito dal controllo delle connessioni stesse tempo che viene sottratto all'esecuzione di altre funzioni pensate alla post elettronica allora due secoli fa arrivava una lettera ogni mese e mezzo due all'intellettuale di turno che si preoccupava di affrontarla di di leggerla ci pensava e poi rispondeva attualmente arrivano decine e decine di mail ogni giorno sul telefonino una parte dei quali sono da buttar via altre no e allora ciascuno di noi deve dedicare una parte del tempo a fare la scelta tra cosa buttare cosa tenere e guardare se deve rispondere quando deve rispondere voi adesso anziché dedicare mezza giornata una volta ogni 15 giorni perché avete un forte rapporto di corrispondenza col mondo dovete dedicare fate voi il conto ora pensando ai ragazzi e social ore della vostra giornata a tenere sotto controllo la rete di comunicazione tempo che non avete più per fare altro quindi il problema del controllo si pone e di nuovo il l'impegno di risorse cresce più in fretta di quanto non cresca la rete come tale e i vantaggi che si può dare ora anche però la capacità di controllo si satura il tempo che volete al giorno sono 24 ore e un calcolatore stesso ha una sua caratteristica un'unità centrale e ha deve fare una miriade di processi che sono calcolati in milioni di processi dipende da come è fatta l'unità centrale e comunque fisicamente tende a saturare se il sistema aumenta e la saturazione che cosa vuol dire con il tempo e con tutto il resto che la rete deve in qualche modo adattarsi se vogliamo tenerla sotto controllo la prima cosa che succede è che la rete tende a gerarchizzarsi specializzare le funzioni cioè non cerco di governare tutto all'inizio dal centro cerco di governare tutte le connessioni poi non ce la faccio più allora speciali mi divido faccio più nodi ad alcuni affido la gestione di alcune attività quelle e sopra ho un'altra unità che gestisce le unità che gestiscono la rete dettagliata no quindi tendo a gerarchizzare suddividere specializzare la rete stessa io ho fatto l'esempio qui legato molto all'informatica ma in realtà funziona con i trasporti questo ragionamento un po con tutto funziona ho bisogno di cercare però a furia di fare ciascun nodo satura eccetera e tutto sommato la domanda di controllo cresce più in fretta di quanto non sia la possibilità di avere controllo il sistema perde il controllo allora la gerarchizzazione perdendo il controllo si trasforma in un'altra cosa nella decomposizione del sistema il sistema diventa ingovernabile le singole unità si muovono in modo caotico o anarchico questa è la dinamica di necrosi degli organismi viventi la morte in un riunio complesso non è istantanea le singole parti in realtà muoiono progressivamente ma la prima cosa che avviene alla perdita del controllo del sistema e questa è la prospettiva di una serie di una di un sistema complesso in crescita la complessità pone questo questo argomento di solito uno dice a finisce il petrolio a il rame sta diventando certo ma questo problema rischia di essere molto più vicino di quanto non sia il fatto di avere poco petrolio di avere il rame sparso in maniera diffusa di tutto il pianeta anziché concentrato nelle miniere ed è un aspetto assolutamente urgente da affrontare perché tra l'altro anche la sicurezza la politica e così via hanno a che fare col controllo le grandi potenze controllano il mondo ma mica tanto vero oltre un certo punto non lo controlli più adesso vedo di accelerare allora un altro modo di leggere le cose quella della della sicurezza ma vabbè questo mi sembra scontato fin qui io ho ragionato su parametri fisici quelli non hanno l'inflazione non c'entrano le borse il chiloattore è sempre lui tonnellata anche mentre ahimè le variabili umane misurate in soldi queste vanno vengono siccome una convenzione umana molto pesante ma lo è ecco in termini sicurezza il costo del cercare di evitare gli inconvenienti collaterali di un sistema in crescita cresce più in fretta dei vantaggi che il sistema da e quindi se vogliamo mantenere i rischi il possibile danno sotto una soglia accettabile e il sistema in crescita noi dobbiamo convogliare nella prevenzione del rischio una quantità crescente di risorse che sono quelle che noi stessi produciamo che il sistema produce sottraendole ovviamente ad altri impieghi che sono quelli che ci interesserebbero di più ora questo l'andamento più o meno è questo siccome non si può ridurre a zero la probabilità di incidente qualunque macchina o non la uso o se la uso c'è la probabilità che si guasti mettiamola così c'è un limite inferiore io posso ridurre il rischio e la probabilità di incidente migliorando le tecnologie riorganizzando il sistema di controllo e quant'altro questo costa all'inizio l'effetto per unità di costo è molto buono ma quando diciamo e sono già più vicino al limite asintotico a parità di costo l'effetto che ricavo è sempre minore se vogliamo per ottenere un miglioramento ulteriore io devo spendere una quantità di soldi che a un certo punto diverge tende addirittura ad infinito se volessi arrivare ad avvicinarmi all'assintoto questo è un problema mica da poco ovviamente perché il sistema diventa ingovernabile e insicuro perché più di tanto non posso fare ma nello stesso tempo mi porta via una quantità delle stesse ricchezze che io sto producendo col sistema che in teoria è quello che mi fa ricco sviluppandosi il risultato è questo economia tradizionale curva nera crescita esponenziale tot per cento all'anno evviva siamo tutti più ricchi curva rossa costi annessi quelli che ho detto prima all'inizio sono una frazione ridotta del totale ma il guaio che crescono più in fretta quindi a lungo andare le due curve si incrociano cioè tutto quello che io produco viene destinato a cercare di far funzionare il sistema la differenza è quella curva lì che avrete già visto altre volte in giro cioè per un po i vantaggi aumentano e poi ahimè crollano tra l'altro non è simmetrica appunto si va su pian pianino e poi si casca giù e ci si fa molto male ed è il problema che noi abbiamo adesso di fronte ultimo tema vedo di cavarda ancora rapidamente in questo sistema c'è la storia delle disuguaglianze di nuovo io non voglio entrare nel merito etico delle disuguaglianze ma cercare di capire se c'è una logica per cui siano una conseguenza necessaria di certi meccanismi disuguaglianze a destra voi vedete la famosa coppa di champagne il 20 per cento dell'umanità l'ottanta per cento delle risorse e il 20 per cento più basso all'un e 4 per cento delle risorse ma se uno va a guardare nella coppa 20 per cento che all'ottanta per cento delle risorse non è che funziona così perché all'interno dei paesi più ricchi la distribuzione è disuguale da sinistra avete l'andamento delle disuguaglianze di reddito nei paesi dell'ox e quindi quelli più sviluppati le curve sono molto irregolari non sono le mie belle rigore ma la logica che c'è sotto è esattamente quella di prima in quei sette paesi voi vedete che dagli anni 70 80 la percentuale di reddito di totale disponibile al 1 per cento più ricco della popolazione aumenta e vuol dire che aumentano le disuguaglianze allora è una questione del colpa del destino cinico e baro oppure nell'avidità individuale di qualcuno o c'è un meccanismo sottostante e c'è un meccanismo noi abbiamo dei presupposti nella crescita questi presupposti sono siamo egoisti e fin lì non è difficile constatare che è vero però siamo egoisti ma anche se razionalmente lo vediamo l'assunto è impossibile modificare la situazione e questo è un assunto a priori dopodiché viene aggiunto è stato aggiunto a suo tempo che l'egoismo è positivo perché se ognuno si dà da fare per ottimizzare il suo ritorno fa anche l'interesse globale cioè il vantaggio collettivo è migliorato dal fatto che ciascuno ottimezzi il vantaggio individuale questo è un assunto l'assunto connesso a questo è che il motore del progresso è la competizione ora se io assumo questo e lo metto in un contesto che è finito ahimè quando questi assioni sono stati posti si pensava a un mondo infinito ma non lo è allora succede un guai che succede che allora di nuovo l'esempietto uno un singolo soggetto è in un ambiente finito e converte risorse primarie in cose utili la sequoia gigante basta un albero normale ma sequoia gigante fa più effetto questa la pianta cosa fa cresce sempre la crescita si interrompe solo per eventi accidentali fulmine l'incendio la valanga l'uomo che lo taglia che cose del genere se non cresce sempre ma c'è un dettaglio cresce sempre più lentamente perché c'è un andamento esintotico di nuovo la logistica che abbiamo già visto uno ma io ho due contendenti tutti e due che cercano di fare la stessa cosa con le stesse risorse una parte più in basso e uno più in alto per motivi occidentali il risultato è quello che il primo cerca di seguire la sua brava logistica il secondo anche lui ci tenterebbe ma deve fare il conti con quello che è già stato appropriato dal primo contendente e la curva che viene fuori è quella che vedete sotto cioè per un po' va su comunque la differenza aumenta ma poi a un certo punto mentre l'altro va su lui va giù questo è esattamente quello che succede quando guardo le statistiche mondiali e quello che io voglio sottolineare le curve non sono così lineare abbiamo visto e così via è che questa è la logica conseguente a quei presupposti se io voglio curare questa cosa che con cui tengo essere una malattia devo cambiare i presupposti perché la macchina funziona così che ci piaccia o no vabbè le equazioni lasciamo stare e quindi in definitiva dobbiamo rimuovere qualcuno dei presupposti o accettiamo che io sono penso che sia così spiegandoci e parlandone possiamo anche capire che conviene ridimensionare l'egoismo individuale anziché esaltarlo e quindi è possibile non competere ma integrare capacità diverse o se no le conseguenze sono quelle che abbiamo visto prima naturalmente in tutto questo ultima battuta attenzione al ruolo della tecnologia che viene interpretata da chi continua a esaltare il modello della crescita la scienza come salvifica è un'idea magica della scienza la scienza ci salverà e in genere affermato da chi scienza ne conosce poca la scienza è quella che dice quello che ho cercato di dire io cioè quali sono i vincoli e le regole del gioco o cambio le regole del gioco e sono io che lo decidite o la scienza mi dico che vado a schiantarmi dopodiché le tecnologie mi aiutano perché per mitigare gli effetti e tutto il resto sono fondamentali mi aiutano per ridimensionare i sintomi della malattia ma la malattia devo rimuoverla io a monte ma la malattia devo rimuoverla io a un'idea magica